Musica Potrebbero essere costretti ad andare a lavorare a Chieri, 200 dipendenti della Compact di Roletto, leader nel settore delle confezioni per l'industria dolciaria. L'azienda pinerolese, che fa parte del gruppo Fincarta, infatti sta per essere acquistata dai francesi dell'Auto Jean, una multinazionale con sede a Mont-Limare. Fra le prospettive c'è quella di creare una New Company Chierese Pack a Chieri. A questo punto la produzione, che si svolge nei tre capannoni di Roletto, per questioni logistiche potrebbe essere trasferita. 652 euro, tanto è costato ad un naturista un infortunio sulla neve a Sestrier. Il suo sfogo lo ha affidato ad un'email dove narra le sue disavventure al colle. Mentre sciava, stava passando da una zona di neve fresca ad un'altra dove i cannoni stavano sparando. Il brusco cambio di neve sotto gli sci l'ha fatta cadere. Sono intervenute le squadre di soccorso e un carabiniere le hanno chiesto se preferiva essere portata all'ospedale civile di Pinarolo o se andava bene a farsi vedere nella clinica privata di Sestrier. La donna ha scelto la seconda. Una segretaria mi ha informato che la visita medica era a pagamento, 150 euro si legge, mentre la radiografia costava 130 euro. Il malleolo era fratturato e ancora una volta ho confermato la mia decisione di farmi curare nel centro privato. Ma i medici non mi hanno detto che nel prezzo della visita non era compreso il gesso e neanche l'iniezione di eparina, altri 340 euro. E per finire mi hanno ingessata ma non mi hanno avvisato che con il gesso non potevo salire in aereo prima di 48 ore. Peccato che però io sarei dovuta partire la sera stessa. Nell'ambito di coscienza e conoscenza incontri paralleli, domani alle 18 nella libreria Mondadori in piazza Barbieri 15 a Pinarolo, si parla di Il segno del mese Capricorno, relatrice Paola Camusso. Spettacolo pirotecnico domani sera alle 22 a Pragelato in località Patemush, a cura del villaggio Club Med Via Lattea. Spettacolo pirotecnico domani